Ciao a tutti, ritengo sia giunto il momento di realizzare questo video a fronte di una situazione a mio parere inconcepibile ed insostenibile. Dopo essere stato accusato per l'ennesima volta di assumere comportamenti misogini, di creare dei contenuti che trovano un substrato esclusivamente su del becero sessismo e altrettanti decorosi attributi fallocentrici che non starò qui ad elencarvi, per una volta voglio sfruttare i miei canali di comunicazione con il fine di esporvi la mia personalissima concezione riguardo agli argomenti trattati e vorrei anche valorizzare questa occasione per definire delle essenziali delucidazioni. Partiamo dal presupposto che la mia comicità, se si può definire tale, può piacervi o meno. Non ho mai preteso di essere apprezzato da tutti e allo stesso tempo sono fermamente convinto che se stai sul cazzo a certe persone è la prova che stai facendo qualcosa di giusto. Gli argomenti, le situazioni e le circostanze affrontate all'interno dei miei video non vogliono e non mirano in alcun modo a idealizzare l'uomo ad essere perfetto ed intoccabile, elevandolo così ad una condizione morale, etica e sociale superiore rispetto a quella della donna. La mia finalità e la mia aspirazione si fondano semplicemente sul tentativo di ricreare un contesto iperbolizzato, quindi volutamente esagerato, con il fine di suscitare nel fruitore, cioè in voi, una situazione sarcastica o quantomeno satirica. Tradotto, il mio unico obiettivo è quello di farvi divertire, farvi ridere. Molto spesso sono stato accusato di servirmi unicamente di volgari stereotipi riferiti al genere femminile. A tal proposito vorrei ricordarvi che la maggior parte dei pezzi comici scritti da autori conosciuti in metà pianeta sono costruiti sull'utilizzo di stereotipi. Lo stereotipo non è altro che un preconcetto, una precostruzione mentale, quindi una generalizzazione di un determinato gruppo di persone che prescinde dai singoli casi, e sottolineo, prescinde dai singoli casi. Non deve essere in alcun modo interpretato come una critica negativa e non è minimamente paragonabile ad un pregiudizio razziale o sociale. Se io affermo alle donne non va mai bene nulla, le donne sono sempre indecise, il genere femminile guarda programmi come uomini e donne, sono perfettamente consapevole che esistono dei casi isolati che non adottano questa tipologia di comportamento. Ma per fare, per creare del sarcasmo, non posso fare riferimento a queste singole situazioni. Se a te piace la pasta con le acciughe e l'anguria, perché dovrei realizzare un video in cui asserisco che alle donne piace la pasta con le acciughe e l'anguria? Se a conti fatti piace esclusivamente a te? Io cerco semplicemente di trovare delle specifiche situazioni nelle quali si possano riconoscere più persone possibili. Poi non è detto che quella sia la tua reale rappresentazione. Non concepisco il senso di esacerbarsi in questo modo se contemporaneamente voi ammettete di non essere tali. È come se io mi arrabbiassi dopo essere stato definito omosessuale di merda. Punto uno, non lo sono. Punto due, anche se lo fossi, non sarebbe un problema. È come se ogni singolo italiano si dovesse arrabbiare dopo essere stato definito da ogni singolo tedesco pizza, pasta e mandolino. È come se ogni uomo si dovesse arrabbiare dopo essere stato accusato di saper fare una sola cosa alla volta. Non è vero! Noi uomini sappiamo respirare, pensare e cagare contemporaneamente. Incredibile, vero? Dovreste affrontare ogni singola contingenza in cui vi imbattete con più leggerezza, senza essere per forza indotte a pensare che all'interno di qualche meandro nascosto dei miei contenuti vi sia la necessità di veicolare messaggi d'odio nei confronti delle donne o, ancora peggio, di onnipresenza a favore dell'uomo. Ci tengo a precisare che questo pensiero è fonte esclusivamente della mia capacità critica, a dimostrazione del fatto che non sono semplicemente un coglione che urla sbraitando e disegnando il nulla cosmico al di sopra di una lavagna. Imparate a filtrare le informazioni che vi arrivano da uno schermo. Istruitevi sul significato del termine ironia, ma soprattutto acquisite la capacità di formulare una linea di pensiero coerente. Se l'uomo parla male, tra virgolette, della donna è misogino. Se una donna parla male, tra virgolette, di un'altra donna è concorrenza. Non è così che funziona e mai avrei immaginato, mai avrei voluto arrivare ad un punto tale di disquisire di emancipazione femminile partendo da dei semplici contenuti ironici pubblicati su Facebook. Non fornirò ulteriori spiegazioni a nessun tipo di contenuto che verrà pubblicato da qui in avanti all'interno dei miei personali spazi mediatici. Ma soprattutto lascerò come sempre la più totale libertà a chiunque di seguirmi o meno. Ciao a tutti e grazie per avermi ascoltato.